Nudo come Cristo l'ha fatto e io insomma non è che mi scandalizzo più di tanto però perché ai bambini non mi piace. Allora gli ho detto venga può darsi che lui si senta male, non lo so. Pomeriggio indubbiamente movimentato in via Fiorentina alle porte della Centro Aretino dove attorno alle 15 un giovane è uscito completamente nudo sulla sua terrazza e ha dato in escandescenze. Era tutto nudo sulla terrazza, mi diceva di fare esplorare il gas, infatti faceva poco, cercava una cosa del gas per chiudere. E non apriva la porta? Non apriva la porta, no, non chiamava la terrazza se li vuole. I vicini di casa preoccupati hanno così lanciato l'allarme sul posto carabinieri, polizia e sanitari del 118. Avete avuto paura oggi? Io è la seconda volta che ho paura perché già era successo tre anni o quattro anni fa. Scendere nudo, insomma una persona che avrà sempre più di 30 anni nudo, non sta bene anche per chi lo vede. Il giovane si è poi barricato in casa per poter entrare all'interno dell'appartamento. I carabinieri grazie anche all'intervento dei vigili del fuoco hanno dovuto forzare la porta del finestrone del terrazzino alle mie spalle. A questo punto i militari hanno fatto irruzione nell'appartamento del giovane, forse è stato confusionale. Non si può vivere in un palazzo così, con un pazzo così. Insomma ha viaggiato problemi? Ma abbastanza sì, anche ieri ha chiamato la polizia perché l'ha inviata in tutti i sensi. Il giovane è stato affidato alle cure del personale del 118. Il giovane è stato affidato all'intervento.